Nel giorno della festa della donna la Toscana ha voluto premiare 5 donne che si sono distinte nel campo della scienza, della ricerca e dello sport, 5 donne, per la ripartenza rosa della Toscana nell'anno della pandemia. La consegna del premio è avvenuta al Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giane e del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Le 5 donne, simbolo dei diritti delle donne e della parità di genere, sono Ambra Sabatini, atleta record del mondo sui 100 metri nella categoria T63, che parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo. Chiara Sacco, atleta di canottaggio con 5 record mondiali, Teresa Fornaro, ricercatrice dell'INAF, unica italiana tra i partecipanti della missione MARS 2020, Elisa Volpi, ricercatrice all'Università di Ginevra e Claudia Sala, responsabile del MAD Lab di Toscana Life Sciences, dove è stato individuato e brevettato per primo in Italia l'anticorpo monoclonale per la cura dell'infezione dal Covid. Cinque vite, impegni e simbolo di quanto sia importante, fondamentale, la valorizzazione della donna nella società civile, nelle professioni, nella espressione del suo talento. È il modo per dire che la Regione Toscana vuole valorizzare, far crescere, sensibilizzare tutti sul ruolo della donna. Storie di dedizione, determinazione e ambizione, storie di chi non ha voluto arrendersi. Cinque donne che hanno fatto grande la Toscana in Italia e nel mondo. A loro un grazie di cuore e oggi questo è un segno, un segno importante. Io dico che sempre la festa della donna va festeggiata finché nel mondo non ci sarà una sola donna a non avere gli stessi diritti che abbiamo noi uomini. Per questo vogliamo tenere alta l'attenzione su questa giornata così particolare. Grazie a tutti.